essere in palla e abbandonerà difficilmente con l'obiettivo che è sempre fisso in questo momento. Gilberto e Rebic come si stanno comportando? Bene, trovano posto, piano piano, si adattano un po' al calcio italiano che è un po' complicato per tutti, è il primo anno di aglioso. Per quanto riguarda la Dinger, avranno già chiesto, ma per quanto riguarda la corsa student, comunque, ma non resterà aperta con l'Ace e forse anche con la Roma, l'hai detto che è un campionato talmente particolare, talmente strano, perché è un tipo di brano. Voglio dire, se la Roma vince tutte le partite come adesso, se la Roma vince tutte le partite come adesso, mi sembra sia accreditata a lottare comunque come realtà importante per il campionato. Certo, la Juventus ha caratteristiche di mentalità diverse dalle altre, quindi la mentalità penso che possa avere ancora la meglio solo sul campionato, ritenendo la Juventus ancora quella che può sicuramente rinunciare questo momento. Ma la sfida con il Bayern può in qualche maniera, tra virgolette, condizionare? Ma è una cosa abbastanza importante per poter assorbire tutto quello che accade. Una vittoria, chiaramente, avrà la sua motivazione anche di un'influenza emotiva importante e con la sconfitta non abbandonare sicuramente quello che rimane il secondo obiettivo, poi, per finirsi in questa nata. Viste la Moviola in campo, lei è d'accordo? Sono d'accordo in certe situazioni, aiutano molto i collaboratori che hanno grandi problemi, magari la intensità di lavoro dei giocatori in campo, di grande velocità, tante volte non riescono a stare dentro tante loro, alle linee di lavoro. Quindi la Moviola l'ha fatta bene, con dei principi esatti, che non faccia perdere molto tempo, poi, chiaramente, alla dinamica del gioco. Secondo me aiuta molto, in certe situazioni, la terna vitale a scrivere e dare delle giudizie veloci.